Buongiorno a tutti, giovedì 29 dicembre, penultima giornata dell'anno per quanto riguarda i mercati azionari. La giornata di oggi si presenta comunque come abbastanza interessante perché ieri abbiamo avuto una correzione abbastanza significativa sugli indici americani e soprattutto il Nasdaq continua dal mio punto di vista a destare preoccupazione perché è molto vicino ai minimi di periodo. Però come vi avevo già detto non mi aspetto movimenti troppo importanti perché comunque i gestori cercano in questa fase lo status quo almeno per le prossime due sedute anche se buona parte del recupero dai minimi di luglio secondo me è stata tra virgolette incassata perché immagino e spero che qualche posizione sia stata alleggerita. Noi però dedichiamoci come al solito a vedere, vi condivido subito lo schermo, come si sono comportati gli indici americani nella giornata di ieri e vedremo che il Dow Jones ha perso l'1,10% ma continua a essere nel box di congestione che vi avevo già fatto vedere ieri, per cui è vero che è possibile che vada nella parte bassa del range che significerebbe 32.573 e poi poco sotto a 32.461 c'è la media mobile a 200 ma comunque è in una situazione ancora abbastanza tranquilla. E' più pericoloso invece quello che sta facendo lo Standard & Poor's 500 perché rimane molto vicino al minimo del 22 di dicembre che è stato 3.764 Poi abbiamo 3.744 minimo del 9 di novembre e 3.708, 3.698 Ecco, anche nell'ipotesi più negativa non credo che nelle prossime due sedute quantomeno vada sotto questo livello. Per quanto riguarda invece il Nasdaq, come vi dicevo qui la situazione è più preoccupante perché ormai rimane come ultimo baluardo per le prossime sedute il minimo del 13 di ottobre che è stato a 10.088 Se allarghiamo il time frame a settimanale vediamo che per trovare un livello inferiore dobbiamo tornare addirittura a luglio 2020, alla prima settimana del 2020 quando il minimo fu 9.663 quindi particolare attenzione per quanto riguarda il Nasdaq Veniamo al DAX, il DAX ha una configurazione simile a quella del Dow Jones diciamo che il Dow Jones ricalca più o meno l'andamento degli indici europei principali il DAX continua a essere in questo box di congestione dal 16 di dicembre il minimo è stato toccato il 20 di dicembre a 13.791 sotto abbiamo 13.600 e questo è un livello piuttosto interessante perché è il minimo di questa candela da più 3.51, quella del 10 di novembre e poco sotto c'è la media mobile a 200, 13.562 per quanto riguarda invece il CAC più o meno la situazione è analoga perché anche qui abbiamo un box di congestione in questo caso siamo ancora nella parte alta per cui il primo livello interessante è il minimo del 23 di dicembre 6.476 poi 6.467 minimo del 21 di dicembre e il livello che non deve assolutamente perdere è 6.388 che è il minimo del 20 di dicembre per quanto riguarda l'euro stocks anche qui abbiamo un box di congestione per le ultime 8 sedute primo livello importante è 3.798 che è il minimo del 23 di dicembre e poi 3.667 che è il minimo del 20 di dicembre per quanto riguarda invece il nostro futures al momento il primo livello importante è 23.680 minimo del 22 di dicembre poi penso che sia fondamentale ovviamente non perdere il minimo di periodo che è stato il 20 di dicembre per quanto riguarda invece i futures andiamoli a vedere assieme i futures americani sono moderatamente positivi a parte Dow Jones che perde lo 0.08 lo Standard & Poor's 500 guadagna lo 0.04 il Nasdaq 100 guadagna lo 0.32 il Russell 2000 è lo 0.17 il DAX perde lo 0.36 l'euro stocks perde lo 0.31 il Nikkei perde lo 0.33 il Topis lo 0.81 l'Hanseng è moderatamente positivo di un più 0.10 il China iShare perde il 2.13 Singapore perde l'1.01 e il Cospi perde l'1.68 per quanto riguarda il calendario macro l'unico dato importante di là poi che oggi è mercoledì scusate mi sembrava poi magari ecco scrivetemelo nei commenti che le scorte di petrolio forse qualche utente l'aveva sottolineato in realtà fossero il mercoledì qui lo dà per oggi alle 17 però il dato importante è quello del 14.30 richieste iniziali sussidi di disoccupazione stimate 225.000 adesso veniamo alle notizie price sensitive allora prima voglio tornare su trevi perché in molti in molti alcuni di voi si sono stupiti per chi io non abbia commentato ieri trevi vedete questa è una notizia del 17.11 2022 dove praticamente si parla di dei due aumenti di capitale uno riservato da 25 milioni e l'altro praticamente da 26.1 milioni l'altro aspetto da considerare che il titolo è il blacklist consob ha si migliorato la propria posizione finanziaria netta da 271,63 milioni a 239 milioni ma soprattutto se andiamo a vedere l'ultimo bilancio disponibile gli ultimi dati di bilancio che è la semestrale pur essendoci diversi parametri migliorati perché gli ordini sono passati da 319.5 a 391.3 il portafoglio ordini da 4.56 a 6.33.1 ricavi da 216.5 a 236.1 quello che però mi preme sottolineare è che il risultato netto pur essendo migliorato è stato di una perdita di quasi 20 milioni di euro è vero che erano 29.2 e il debito al 30 di giugno 2022 era ancora di appunto 274,6 milioni a 251,8 per cui per i miei parametri sono titoli che oltre a essere in blacklist consob sono la mia personalissima blacklist io se sono ancora oggi sul mercato con oltre 20 anni di esperienza perché ho imparato a evitare certe società poi magari trevi sarà un turnaround incredibile e molti di voi diranno ecco ha fatto per due per tre per quattro però per le regole che mi do e le rispetto sempre o quando non lo faccio ne pago sempre le conseguenze è un è una società sulla quale io preferisco non investire questo canale è un canale didattico vi fa vedere un quadro del mercato secondo la mia interpretazione e in più delle volte vi parlo di operazioni che io faccio per cui per me per lavorare su trevi non ci sono le condizioni se qualcuno di voi l'ha fatta e ha guadagnato avendo io la fortuna di essere invidioso sono molto contento per voi ma è un titolo che comunque tendenzialmente non faccio perché è una società in crisi da 4-5 anni veniamo adesso alle notizie price sensitive allora diciamo che ce ne sono pochi ovviamente però vorrei prenderle oggi da questi comunicati societari aspettate che aumento un po' se no poi rifrescia sempre allora borsa italiana si prende l'ultima settimana notizie uscite dopo la chiusura del mercato diurno ve l'ho già spiegato circle prima notizia ovviamente non necessariamente io opererò su questi titoli bisogna vedere se saranno le condizioni soprattutto mi interessa defense tech poi adesso lo vedremo siglato contratto da parte di circle del valore di oltre 650 mila euro con primario operatore logistico italiano per prodotti milos mto e milos federati service ok allora qui adesso non ho il tempo e materiali farlo con voi poi lo farò tra le otto e le nove andrò a vedermi quanto fattura la società quanto capitalizza la società e deciderò eventualmente se intervenire o meno tra l'altro un titolo circle che scambia molto poco da diverse settimane per cui non è così facile da tradare ha un lotto minimo mi pare addirittura 660 comunque un lotto minimo un po' strano e vedete che è sì in un trend moderatamente rialzista di breve ma non ha mai scambiato più di 13.860 pezzi da metà maggio in avanti però è un titolo che se ci saranno le condizioni magari proverò a fare sempre da borse italia prendiamo torniamo indietro ci riapre la schermata precedente e dobbiamo tornare a ultima settimana scorrendo verso il basso vediamo che scm solution capital management ha deliberato un aumento di capitale è da 1,1 milioni a 3,60 io ho anche sul secondo monitor ovviamente le notizie eh allora poi c'è ovviamente il rapporto di opzione tre nuove azioni ordinarie ogni 20 azioni andiamo a vedere il grafico eh scm che è questo qua il titolo vale 3,50 l'aumento di capitale a 3,60 questo vi dico che tendenzialmente è un titolo che oggi io personalmente non farò andiamo ancora perché ovviamente ci sono altre notizie e nella fattispecie ce ne sono due che mi interessano più delle altre una riguarda DBA e ci sono praticamente i dati preliminari eh di bilancio eh per il 2022 eh anticipato un po' i tempi questo di solito il mercato lo apprezza però ho dato uno sguardo prima di stare al video e non mi sembrano incredibili eh ha fatto 83.3 milioni di ricavi un EBITDA già già sapete che sono un po' allergico pari a 7,2 milioni da 6,7 e ha un debito di 13 milioni per cui adesso andrò a vedermi tutti i dati bene ha già fatto una previsione anche per eh il 2023 con un fatturato a 105 milioni da eh in aumento di 21.7 un EBITDA 10.3 in aumento di 3.6 milioni e un leggero miglioramento della posizione eh finanziaria netta per cui anche DBA eh andrò ovviamente a definire se può essere un titolo che eh mi interessa eh eh tradare eh adesso dal punto di vista tecnico al di là delle notizie eh mira a area 1,70 però dobbiamo vedere come la prenderà il mercato. ultima notizia che voglio eh sottoporre alla vostra attenzione è eh quella che riguarda Defense Tech perché questa potrebbe essere più interessante anche se temo che il mercato ovviamente anticipi un mio possibile intervento perché è vero che è solo il 20% della società però Tinexta è un colosso rispetto a Defense Tech e il prezzo offerto l'ho visto prima adesso vediamo se ve lo riesco a far vedere vedete 4,9 euro per azione per cui Defense Tech se andiamo a vedere ieri ha chiuso a 3,84 se non mi apre troppo su ma temo che ovviamente lo farà a quel punto potrò eventualmente eh intervenire e eh comprare magari un eh piccolo lotto perché ovviamente di più eh non vorrei non vorrei fare quindi questi sono tutti temi eh secondo me molto interessanti eh però eh logicamente eh non so se potrò sfruttarli eh per quanto riguarda invece eh altre eh notizie di price sensitive c'è sempre il discorso legato a Telecom eh anche eh oggi c'è un incontro in conference call tra governo e rappresentanti di principali azionisti PVND e Cassa Depositi e Prestiti per discutere i piani del nuovo esecutivo per l'ex monopolista telefonico eh il grafico mi continua a chiamare un potenziale ulteriore rialzo io eh continuo a mantenere il titolo però eh ovviamente bisognerebbe che ci sia un pochettino più di eh come dire eh iniziativa intraprendenza eh da parte eh di eh gli attori in in gioco eh per questa mattina eh abbiamo concluso noi ci sentiamo eh come al solito dopo la chiusura del mercato di urno eh attenzione però che oggi eh può essere una giornata importante perché eh dobbiamo vedere l'impatto della debolezza del mercato americano sui mercati europei e le preaperture sono eh moderatamente negative eh buon trading a tutti ci sentiamo dopo la chiusura del mercato di urno.